Viveva a Filetto nel Ravennate Stefano Zaffagnini, il 53enne morto nella piallassa Baiona vicina a Porto Corsini, mentre pescava le vongole. Stanno emergendo nuovi particolari a poche ore dalla tragedia e sembra che i vigili del fuoco abbiano recuperato il corpo a pochi metri dalla riva, in un punto in cui già si toccava il fondale e quindi si presume che avvertendo un malore, l'uomo abbia tentato un disperato tentativo di raggiungere la sponda. Il 53enne era un pescatore con regolari licenze e testimoni hanno riferito fosse sua abitudine recarsi a pescare nella zona ridosso del ponte di ferro, non lontano da un gruppo di capanni da pesca. In base alla ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri, sembra che l'uomo si fosse immerso insieme ad un collega e poi si sarebbero diretti verso zone diverse dalla valle, ma dopo un po' di tempo sarebbe stato visto il corpo dell'uomo galleggiare mentre ancora era legato al pallone di segnalamento. È subito scattata la richiesta dei soccorsi ma sono stati purtroppo inutili. L'ipotesi più probabile sembra quella del malore, visto che la scarsa profondità dei fondali tende a far escludere eventuali embolie procurate dall'immersione. L'esame poi dell'attresatura sembra convalidare l'ipotesi che le bombole fossero regolari e quindi non la causa del decesso. L'uomo era molto conosciuto a Marina di Ravenna dove per molti anni aveva gestito dagli anni 80 alla metà degli anni 90 lo storico locale Il Baretto, che si affaccia sul canale Candiano e che in ogni stagione era frequentato da migliaia di persone.